Negli ultimi anni l'Italia ha avuto una crescita di casi di bullismo e cyberbullismo, tale da collocarla tra i paesi al mondo con il maggior numero di episodi accertati. In Piemonte il 6% dei casi nazionali. Nel VCO la situazione sembra essere più serena rispetto all'accertamento di situazioni gravi, anche grazie alle diverse iniziative di sensibilizzazione messe in atto dalle scuole nel tempo per studenti e famiglie. Ma la guardia su questo fenomeno non deve mai essere abbassata. Dal 2017 tutte le classi prime delle scuole secondarie di primo grado della nostra provincia sono coinvolte nel progetto per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, patente di smartphone, nato proprio nel VCO e ora diffuso in tutta Italia. Il 7 febbraio è la giornata nazionale di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo a scuola e il 14 febbraio è il Safer Internet Day, giornata mondiale della sicurezza in rete. Tutti gli istituti scolastici del Verbano Cusiossola dedicano la giornata del 7 febbraio o parte di essa ad attività per sensibilizzare gli studenti al tema con iniziative di diverso tipo. Il bullismo è una forma intenzionale di aggressione fisica e psicologica, continua e ripetuta nel tempo nei confronti di soggetti più deboli e si manifesta prevalentemente nell'ambito scolastico e generalmente nella fascia d'età pre-adolescenziale ed adolescenziale, corrispondente al periodo tra la terza classe della scuola primaria e il terzo anno della scuola secondaria di secondo grado. Un fenomeno allarmante ed odioso che con l'uso sempre più diffuso di internet tra i giovani ha assunto dimensioni ancora più vaste assumendo il nome di cyberbullismo. La prima vittima accertata di cyberbullismo in Italia, Carolina Picchio, è proprio piemontese. Quest'anno per dare voce agli studenti Radio 6+, la radio delle scuole del VCO, per tutto il mese di febbraio manderà in onda i podcast prodotti da classi o gruppi di studenti contro il bullismo e il cyberbullismo. Un'occasione importante per il benessere e la sicurezza dei giovani. I podcast potranno essere inviati a redazione-radio6plus.it e saranno pubblicati sul sito www.radio6plus.it nel contenitore tematico patente di smartphone.